Doveva essere una domenica come tante altre, bel tempo, voglia di libertà in sella alla sua Honda Hornet 600 e invece purtroppo per un centauro, un giovane padre del Casentino, questa purtroppo è stata l'ultima corsa. L'uomo Massimiliano Ronconi, 46 anni, residente a Subbiano, stava viaggiando lungo la regionale 71 intorno alle 14.30 in direzione Arezzo. Nei prassi di Giovia ha perso il controllo della moto ed è caduto rovenosamente a terra. A dare l'allarme sono stati i motociclisti provenienti dalla riviana Romagnola che hanno assistito casualmente alla tragedia. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno tentato una disperata corsa verso l'ospedale San Donato di Arezzo ma purtroppo le ferite erano troppo gravi e l'uomo è deceduto. Era papà di un bimbo in tenera età. Alla Polizia Municipale di Arezzo il compito di ricostruire la dinamica.